Mister, buongiorno. Andrea Besenzoni, Juventus.com, come ha detto Ricky. Arriviamo da una serata emozionante, si sono viste tante cose positive, si sono anche visti quattro gol subiti. Allora le chiedo che Juve si aspetta domani contro il Parma. Grazie. Come sempre è una partita diversa, ma vogliamo competere, vogliamo fare una grande prestazione per arrivare al risultato che vogliamo avere, ma lo dobbiamo meritare come sempre. Dobbiamo fare bene in tutte le fasi per avere la probabilità domani o alzare sempre la probabilità di poter avere il risultato positivo. Buongiorno, mister. Giovanni Albanese Sport Italia. Le giro una domanda che in questo momento si stanno facendo i tifosi, specialmente nell'ultimo periodo. No, fermo, fermo. Fai te la domanda al tuo nome, ai tifosi. No, no, no. Ogni tifoso ha la sua opinione, fai la tua domanda in nome dei tifosi perché questo non... Le chiedo se dietro le esclusioni ultime di Gatti c'è un calo del rendimento del ragazzo in allenamento o un qualsiasi malinteso tra voi. Grazie. Non esiste nessun malinteso, nessun calo di impegno negli allenamenti. Sono scelte che faccio prima di una partita e abbiamo bisogno di tutti. Federico fa parte di questo gruppo che quando ha giocato ha fatto bene, quando altri hanno giocato hanno fatto bene anche loro. le scelte vanno fatte sempre per il bene della squadra e della Juventus soprattutto. Ma non esiste niente di niente. Grazie. Buongiorno Giovanni Guardalasca e Sport. nel caso in cui Vlaovic prima o poi riposerà? Quando riposerà vedremo il momento e la partita che affronteremo e cosa abbiamo bisogno davanti. Però tanti giocatori possono giocare sicuramente con caratteristiche diverse, ma la dobbiamo vedere e nel momento, e nel momento che arriverà, se arriverà, se arriverà, vedremo. Volevo tornare sulle vostre ultime partite. Nelle ultime cinque gare ci sono stati cinque rigori contro e tre espulsioni. Volevo capire se l'ha interpretati come episodi che capitano nell'arco di una partita o se ha trovato un filo conduttore e si è dato una spiegazione dietro questi numeri. Grazie. Una cosa da migliorare, sicuramente. Guarda, tante cose da migliorare. Sicuramente questo. Dobbiamo finire sempre in undici e non fare rigori. Mister, buongiorno. Marco Baridano, Juventus News24. Dopo Inter-Juve ha parlato di alcuni alti e bassi da correggere per mantenere lo stesso livello per 95 minuti. Le chiedo a Freddo ora se ha trovato qualche soluzione magari per correggere questo andamento altalenante. Grazie. Sicuramente tante cose fate bene, però 10-15 minuti del secondo tempo, all'inizio del secondo tempo, dobbiamo gestire meglio, sicuramente. Dobbiamo essere in partita, dobbiamo unirsi di più, essere più compatti. Arrivano per tutti un momento di difficoltà o un momento più complicato durante una gara, però non possiamo allargare o allungare tantissimo questo tempo e dobbiamo gestire meglio. Per rimanere in partita e quando veniamo fuori, come abbiamo fatto alla fine o dopo questi 15-12-15 minuti e venendo fuori, avere la possibilità di sempre andare a cercare il risultato positivo che vogliamo. Buon pomeriggio mister, Camillo De Michelis, tutto Juve, tutto mercato web. Volevo sapere se si aspettava una crescita dal punto di vista tecnico così importante di Cabal, perché nella sfida contro l'Inter ha fatto due splendide giocate sia sul primo che sul quarto gol. Non solo da lui, come da tutti gli altri, perché sono grandi giocatori, lo dimostrano nell'allamento, lo dimostrano nel campo in partita, ha fatto un'ottima prestazione anche lui, come i suoi compagni, e sono molto contento sia per lui che per le squadre. Buongiorno mister Nicola Gallo, Mediapason, ora c'è un ciclo di partite, le chiedo se recupera qualcuno tre di campionato, una di Champions, dei ragazzi che non erano a disposizione in questo momento per aumentare le turnazioni. Sì, non avremo Nick Leysson, Douglas, non avremo Nico e Arek. Ricopreremo Copp e vedremo domani se dall'inizio o durante la gara o sarà solo con noi. Antonio Paolino, Radio Bianconera. Dal suo punto di vista ha cambiato tanto perché era necessario ogni volta o voleva vedere le risposte di chi inseriva? Grazie. Che risposte sono arrivate? Tante ore di lavoro tutti i giorni e tutte le scelte fatte per il bene della squadra e nel momento che lo faccio poi, dopo la partita, se si vince normalmente è andata bene e se si perde normalmente è andata male. È così. Buongiorno mister Lorenzo Bertolucci della Rai, volevo sapere se stasera guarderà Milan-Napoli e se sì che cosa spera di vedere? Non guarderò, no, non guarderò. Farò la cena a casa con la mia famiglia che è qua e approfitterò questo bel momento con la mia famiglia, ma questo momento intanto il Mille è lontano, il Napoli già l'abbiamo affrontato, no, non guarderò la partita. Salve mister Cristiano Corbo, calciomercato.com e il bianconero. Lei dice che ogni partita ha una storia a sé, giustamente, ma San Siro va ricordata oppure va messa in un angolo? Cioè tutte le sensazioni accumulate dopo quella partita vanno messe anche nella gara di domani? Grazie. Tutto quello che ho fatto, fatto nel modo positivo, da continuare, quello che possiamo migliorare, migliorare, ma la partita rimane nel passato e adesso la testa è a 200% nella Parma. Una squadra sicuramente complicata da affrontare come tutte le squadre di Serie A e noi fare una grande prestazione domani davanti al nostro pubblico cercando alla fine avere sempre il risultato che vogliamo che è quello positivo. Ciao, buongiorno. Massimiliano Rossi, Corriere della Sera. Il Parma ha fatto una grande partita a Napoli, poi ha perso 2-1 con l'espulsione, ha perso due volte in casa 3-2. Ti chiedo se ti sei fatto l'idea che la classifica che ha sia un po' meno dei valori potenziali che ha una squadra, cioè come i valori tecnici, che idea ti sei fatto del Parma come squadra? Io ho l'idea che il Parma è una buonissima squadra con dei giocatori molto interessanti, con un anellatore che prepara molto bene le partite, una squadra che si difende molto bene, dimostrando anche quella partita che hai nominato, ma anche altre partite. Sicuramente, come sempre, ripeto, una partita che dobbiamo giocare al nostro massimo, in entrambe le fasi, difensiva e offensiva, giocare bene le transizioni perché è importantissimo e fare del nostro meglio per domani, portare la partita della nostra parte. Ultime due domande, grazie. Buongiorno, Filippo Cornacchia, la Gazzetta dello Sport. Le volevo chiedere se dopo la doppia rimonta che avete fatto con l'Inter, vi sentite più vicini all'Inter e soprattutto vi sentite nella possibilità di fare il rimonta anche in campionato, sul Napoli e sul Linde. Con la partita lì abbiamo fatto dei momenti molto bene, altri sicuramente da migliorare, ripeto, i 10-12 minuti all'inizio e il secondo tempo va gestito molto meglio, rimanere in campo, rimanere in partita, unirsi. e abbiamo finito molto bene la partita avendo la possibilità di vincerla. Un bel spettacolo perché le due squadre potevano vincere la partita ma rimane nel passato e adesso pensiamo alla prossima partita che è quella più importante e la testa focalizzata al 200% su questa partita. Tutto il resto sono opinioni dove conta pochissimo in questo momento. Buongiorno, Guglielmo Buccheri, La Stampa. Mi rilacciavo a questa domanda del collega. Ecco, secondo lei la partita di domenica è stato comunque complessivamente uno spot per il calcio o una partita piena di tra virgolette imperfezioni? E alla luce di questo le imperfezioni in casa Inter legandole al secondo tempo soprattutto come avete fatto qua con il Napoli dove avete avuto il predominio. Ecco, le fanno pensare sempre che Inter e Napoli sono le grandi favorite per lo scudetto. Grazie. Sono concentrato sul nostro bel calendario tutto il resto adesso conta relativamente molto poco per me e soprattutto nella partita di domani soprattutto nella partita di domani perché la prossima è la più importante. tutto il resto il giudizio tutti fanno il suo ognuno ha la sua opinione libera di farlo e rispettabile la mia come allenatore è che abbiamo fatto dei momenti molto bene e altri che dobbiamo sicuramente migliorare già subito per la prossima partita perché ripeto normalmente in ogni partita esistono dei momenti che la squadra avversaria può stare un po' meglio della nostra e dobbiamo gestire bene questi momenti per rimanere in partita e andare in avanti e fare quello che serve per alla fine avere la vittoria. Grazie a tutti buona giornata grazie non la prenderei male però era questo non per i tifosi per te grazie